Mi hanno chiesto di leggere l'Odissea, vi dico gli altri chi sono così vi rendete conto del mio imbarazzo. Moni Ovadia, Ascanio Celestini, Paolo Rossi, Giole Dix, Amanda Sandrelli. Però io che sono pazza ho detto sì certo. L'Odissea, allora è un progetto che si chiama Odissea, un racconto mediterraneo, vi faccio vedere qua l'allegato. È un progetto in realtà meraviglioso perché mi ha costretta a rileggere l'Odissea. Io avevo questo desiderio, però siccome i ricordi di scuola sono sempre un po' tremendi, ma non perché i professori non siano stati bravi, perché comunque la scuola è difficile, è pesante. Quindi facevo sempre fatica a rileggere l'Odissea, invece così costretta mi sono resa conto che la dovete rileggere tutti ragazzi. È facilissima da leggere in realtà, ed è bella, è interessante, è contemporanea, anzi è oltre, oltre noi. I greci hanno detto tutto, quindi noi possiamo soltanto riprendere e approfondire. Ma adesso c'è qualcuno che mi farà delle domande, voi non lo sentirete, ma è così. Io risponderò altro. In effetti gli episodi che ti restano più impressi, più che gli episodi sono proprio i personaggi, sono le sirene e polifemo. Le sirene perché sono belle e polifemo perché è brutto. Secondo me queste sono le due cose che te l'Odissea ti ricordi che l'ha scritto Omero e poi queste due cose. E' bello anche, o quantomeno quello che mi ricordavo io vagamente, era anche l'incontro tra Ulisse, Odisseo e Penelope. Cioè quando lui ritorna finalmente, perché dopo tutti i suoi giri nel Mediterraneo, Ibiza, Centropeccia, si fa tutti i giri, diciamo la costa Smeralda, le Olie, dove i suoi giretti con la costa romantica, la costa romantica ritorna, è molto forte, perché si riconoscono, cioè lei lo riconosce da un aneddoto legato al letto, no? Quindi questa cosa della passione, dell'amore, è molto, cioè quella me lo ricordava, anche quello me lo ricordava. I passaggi che fanno paura oggi? A me, diciamo, le cose che mi fanno più paura, che non sono legate necessariamente, cioè nel canto delle sirene, che è il dodicesimo, che è quello che poi leggerò io, quindi sono fortunata, perché leggo un canto di quelli, e tutti dicono, ah sì, le sirene, in realtà poi non ce le ricordiamo bene bene, perché le sirene sono un pezzettino così, poi lui parla appunto di scileccaridi, parla di altre cose. Le cose che mi fanno paura a me, indipendentemente da quello che è la metafora della conoscenza, ho saputo una cosa, ho avuto una notizia tremenda, mi hanno detto che prima o poi il sole si spegnerà, tra 5 milioni di anni, miliardi di milioni di anni, però si spegnerà. A me questa cosa mi fa perdere un po' la speranza, non lo so, questo fatto che si spegnerà il sole, mi fa capire che comunque ci sarà la fine. Questa cosa mi ha, non lo so, mi ha incupita, anche se non accadrà oggi, però qualcuno dopo accadrà. E questa cosa un po', questa è la mia paura, poi di scileccaridi. L'Odissea che è un grande punto, appunto come si dice in siciliano, tutte le favole in Sicilia, le favole siciliane iniziano con Sicunte sa ricunta, perché è importante riraccontare, no? Quindi Sicunte sa ricunta, per questo è importante questo progetto, perché anche noi raccontiamo di nuovo l'Odissea. A me in questo momento, diciamo, mi piace molto raccontare a mia figlia, perché le piace, insomma, ascoltare, e al pubblico, io dico al mio pubblico, che poi non è il mio pubblico, però un po' lo sento mio, perché magari mi sceglie, io scelgo loro, perché il racconto, la prima cosa che mi viene in mente con il racconto è la seduzione e l'interazione, quindi è un modo per stare insieme agli altri e per superare le paure, anche quelle del sole che si spegnerà.